La storia ricca, variegata, profonda della sua redazione e la singolarità dell'autrice Irene Nemirovski rendono questo libro davvero eccezionale. Mi riferisco a Tempesta in giugno edito da Delphi che in soldoni è la versione da tiro scritta dal marito e supervisionata dall'autrice di Temporale di giugno. Diversi capitoli sono stati dunque sottoposti a revisione, determinati personaggi vivono una destinalità differente, lo stile è asciutto e oggettivo, focus narratologico sull'esodo impazzito dei parigini che scappano dai tedeschi nel 1941.